Sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause della morte della piccola Elodie. L'esame sarà effettuato domani presso l'ospedale Moscati di Avellino. La piccola, che nei prossimi giorni avrebbe compiuto due mesi da un primo accertamento esterno, sarebbe morta a causa di un rigurgito che l'avrebbe soffocata durante la notte. È stata la mamma di Elodie ad accorgersi della tragedia. La 24enne, mercoledì mattina, ha preso in braccio la bambina che dormiva nella sua culetta e si è accorta che Elodie non respirava più. Allertati immediatamente i soccorsi all'arrivo del 118, i sanitari hanno provato a rianimare la bambina, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. Nell'abitazione di Lioni, dove la piccola vive con la giovane madre agli arresti domiciliari e il compagno della donna, che al momento della tragedia non era in casa, si sono portati anche i carabinieri e il medico legale. Stando ai primi accertamenti, sarebbe confermato che si tratta di un caso di morte in culla, ma la procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso. La morte della piccola Elodie ha sollevato un dolore enorme tra la comunità di Lioni e non solo. La giovane mamma vive nel comune Artirpino da un anno. Ad agosto era nata la piccola, un'immensa gioia per la giovane donna, che grazie a quella bambina avrebbe cominciato una nuova vita e con il tempo si sarebbe lasciata alle spalle ai problemi che lo scorso anno l'avevano vista coinvolta in un caso di traffico di droga nel Salernitano.